Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al nostro webinar. Il webinar di oggi, come certamente saprete, siete consapevoli, ha ad oggetto la presentazione di un servizio di infocamere, che è la Società di Informatica delle Camere di Commercio, quella a cui noi ci appoggiamo e che gestisce la generalità dei servizi telematici per la Camera di Commercio e soprattutto per le imprese. Il servizio che presentiamo oggi è un servizio che ha carattere di novità, perché è la prima volta che lo proponiamo alle imprese del territorio e lo proponiamo per così dire sotto una doppia veste, nella veste di soggetti che hanno bene a cuore quella che è l'ecentità, l'opportunità per le imprese di innovarsi, di digitalizzarsi, di digitalizzare le loro attività e i loro processi, quindi con uno sguardo verso il futuro, ma anche consapevoli delle nostre competenze tradizionali, perché sapete che la Camera di Commercio, da anni, decenni, da tempo praticamente immemorabile, ha questa competenza amministrativa che riguarda la bollatura e la vidimazione dei libri di impresa. Quindi diciamo sotto queste due vesti, guardando al futuro, però ben consapevoli del passato delle nostre competenze tradizionali, che noi con molto piacere vi proponiamo questo servizio che ha per oggetto appunto la conservazione digitale, rigorosamente a norma dei libri di impresa. Vi dico subito che dal nostro sito potete accedere direttamente al portale che vi consente di registrarvi e quindi di utilizzare questo servizio, i cui contenuti precisi e dettagliati sono adesso illustrati da Sara Pirro di Infocamere, che ringrazio moltissimo e a cui passo immediatamente la parola. Grazie Sara e buon lavoro. Grazie dottoressa Benecchi, ringrazio voi insomma per avere la Camera di Commercio, per aver organizzato questo webinar su un portale veramente molto, ultimamente molto, molto importante, proprio in virtù di quel tema che ormai sentiamo spesso parlare, che è appunto la digitalizzazione. Allora, io condivido la presentazione che ho preparato. Innanzitutto, magari prima di cominciare, vi do alcune indicazioni sull'utilizzo dello strumento Zoom, perché così mi consente al meglio di gestire le eventuali domande appunto sulla tematica. Come avrete sicuramente notato, il microfono e la webcam sono disabilitati, per cui potete inserire le domande relative al contenuto del corso utilizzando la funzione DR, domande e risposte, oppure question and answer se avete la versione Zoom in inglese. Questo appunto mi consentirà di gestirle nel migliore dei modi, mentre utilizzare la chat per comunicare eventuali problemi tecnici. Allora, come anticipato dalla dottoressa Benecchi, oggi appunto vedremo il portale che si occupa di gestire tutto il tema della digitalizzazione, della dematerializzazione dei libri di impresa, della Camera di Commercio, in realtà dell'intero sistema Camera di Commercio, quindi anche a livello nazionale, realizzato da Infocamere, che appunto è la società informatica e di innovazione tecnologica delle Camere di Commercio d'Italia. Resteremo insieme fino alle 17.30. Partiamo sempre da un presupposto. Perché i libri di impresa? Perché digitalizzare i libri di impresa? Il presupposto è che tutti gli imprenditori che svolgono attività di impresa devono dare evidenza dei loro fatti economici attraverso la predisposizione di determinati libri e registri, così come prevedono le norme contenute all'interno del codice civile e le norme tributarie. Il servizio libri digitali ovviamente è stato creato su misura su quella che è la normativa di riferimento ed è appunto il servizio che consente la gestione, l'archiviazione e la conservazione a norma dei libri di impresa, quindi libri sociali e contabili. Come vedremo si tratta di un servizio molto semplice da utilizzare, intuitivo, con uno spazio di archiviazione molto elevato e sicuro, realizzato nel pieno rispetto, quindi con pieno valore legale, quindi nel pieno rispetto di quella che è la normativa di riferimento e in particolare qui faccio sempre riferimento all'articolo 2215 bis del codice civile in materia di documentazione informatica ed è un servizio pensato per le società di capitale e le società di persone e ovviamente le imprese individuali, le ditte individuali, che si registrano per nome e per conto del loro legale rappresentante o titolare di impresa. Chiaramente l'obiettivo di questo corso è illustrare quelle che sono le caratteristiche del portale libri digitali, quindi quelle che sono le funzionalità principali, per cui non entreremo nel merito specifico della normativa, che è estremamente variabile anche in base a quella che è la tipologia del libro. Quindi andremo invece a vedere gli aspetti di utilizzo del portale. Altro presupposto importante, perché digitalizzare i libri di impresa? Perché si parla di dematerializzazione delle scritture? Perché chiaramente la gestione cartacea è una gestione anche, passatemi il termine, onerosa dal punto di vista dei costi di gestione, quindi l'acquisto di risme, di documenti cartaci per la loro formazione, per la loro predisposizione, avere la disponibilità di spazi fisici, uno spazio archivio per la loro tenuta e conservazione, e poi comunque tutte quelle attrezzature relative alla gestione cartacea. Quindi sicuramente è un iter complesso dal punto della gestione cartacea, quindi la gestione analogica dei libri di impresa, prevede un iter complesso dal punto di vista burocratico, ma anche di reperibilità dei libri stessi. Pensiamo ad esempio a quanto potrebbe essere complicato, difficile ricercare un verbale di assemblea di una determinata annualità. Anche perché gestione onerosa riferita al fatto che i libri cartaci, prima di essere messi in uso, devono essere fisicamente portati in camera di commercio all'ufficio preposto, oppure da un notaio o da altro soggetto previsto dalla normativa, per andare a assolvere a quegli obblighi, per assolvere quegli obblighi previsti dalla normativa, quindi la numerazione è progressiva in ogni pagina e laddove è previsto anche gli obblighi di vitimazione e bollatura, laddove previsti. Anche se spesso si portano anche, c'è la cosiddetta bollatura facoltativa, quindi si portano quei libri a vitimare e bollare anche se non è previsto la normativa, come ad esempio il libro giornale o il libro inventari, che non sono più soggetti a questi obblighi dal 2001. Questo perché? Per garantire maggiore certezza della loro efficacia approvatoria e del loro valore legale. Tutto questo chiaramente ha impatti significativi sull'efficienza della gestione dei libri di impresa, anche nell'ottica del deterioramento dei documenti. Un documento cartaceo è più soggetto alle intemperie ambientali piuttosto che un documento elettronico. Un documento elettronico che tra l'altro come vedremo è soggetto all'interno del portale alla marcatura temporale e alla firma digitale, che sono diciamo due elementi che garantiscono sicurezza elevata a un documento informatico. Quindi quali sono sostanzialmente i principali vantaggi della dematerializzazione delle scritture, quindi del portale libri digitali? Sicuramente l'utilizzo del portale comporta un risparmio nei costi di gestione e di chiaramente archiviazione che sono legati alla gestione analogica, alla gestione cartacea, quindi non c'è più bisogno di acquistare documenti cartacei per la loro formazione, non abbiamo più la necessità di avere uno spazio fisico a disposizione per la loro tenuta e poi non si stampia più nulla, non abbiamo bisogno di stampanti e della relativa attrezzatura di manutenzione legata appunto alla stampa che viene eseguita sui documenti. Cosa guadagniamo? Guadagniamo in un aumento della sicurezza e del valore giuridico probatorio dei documenti digitali, questo garantito, proprio questo valore, questa maggiore sicurezza garantita dalla posizione appunto della firma digitale. Sono tutti aspetti che poi andremo a vedere nel dettaglio. Si parla della diminuzione, se non addirittura eliminazione totale di quello che è il rischio di avere dei documenti smarriti e deteriorati nel corso del tempo, semplificazione nel processo di emissione, tenuta e conservazione dei libri, ma anche di ricerca puntuale ed esibizione a norma. Sono tutte caratteristiche che saranno ampiamente rispettate all'interno del portale Libri Digitali. Questo ovviamente è chiaramente un grandissimo contributo alla Green Economy. Altro presupposto importante, qui citiamo sempre le normative di riferimento, in particolare l'articolo 2215 del Codice Civile che parla, che fa riferimento alla modalità di tenuta tradizionale, quindi a quelle che sono le regole principali di una gestione cartacea dei libri di impresa. Nello specifico l'articolo fa riferimento ai libri contabili, secondo il quale devono essere, quando, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e laddove è previsto vidimati o bollati dalla Camera di Commercio, dall'Ufficio del Registro delle Imprese oppure da notaio o altro soggetto. Ad eccezione del libro giornale e libro inventari che, come già vi anticipavo, non sono soggetti dal 2001 a bollatura e a vidimazione, ma devono sicuramente essere numerati progressivamente prima di essere messi in uso. questo però cambia, non è proprio così, per i libri sociali. Parliamo dell'articolo 2421 del Codice Civile, il cui afferma appunto che i libri sociali devono essere non solo numerati progressivamente in ogni pagina, questo per garantire quel concetto importante di consecuzio temporale delle scritture di impresa, ma devono essere anche bollati in ogni foglio, ai sensi appunto di quello che è l'articolo che abbiamo detto prima, quindi l'articolo 2215 del Codice Civile. Perché si parla? Perché possiamo parlare ad oggi di dematerializzazione delle scritture, quindi di digitalizzazione? Perché c'è stato un cambiamento normativo importante introdotto dalla legge che vedete qui in alto, in particolare dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 2009 numero 2 che parla appunto di misure urgenti a sostegno delle imprese, a sostegno dell'economia. Questo articolo, l'articolo 16 ha introdotto l'articolo 2215 bis del Codice Civile in materia di documentazione informatica. Cosa dice questo articolo? Quindi quando parliamo di digitalizzazione delle scritture il nostro articolo di riferimento è appunto l'articolo 2215 bis del Codice Civile. Afferma chiaramente che le scritture di impresa possono essere native digitali, quindi possono essere formate fin dalle loro origini, quindi possono essere create con strumenti, con documenti informatici, quindi possono essere native digitali, nascere così, stabilisce inoltre che i libri digitali, stabilisce l'efficacia probatoria dei libri digitali, quindi in caso di richiesta di esibizione i libri digitali hanno assolutamente pieno valore legale e stabilisce inoltre che gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione nei libri digitali sono assolti mediante l'apposizione almeno una volta all'anno della firma digitale del legale rappresentante titolare di impresa o di suo delegato e della marcatura temporale ovviamente se nell'anno non vengono eseguite registrazioni la firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere apposte all'atto di una nuova registrazione per cui poi decorre il periodo annuale che vi accennavo prima quindi sostanzialmente questo articolo afferma che i libri di impresa possono essere creati con strumenti informatici parliamo sia di libri sociali sia di libri contabili stabilisce che i libri digitali hanno assoluto valore legale quindi l'efficacia approbatoria dei libri digitali ai sensi di due articoli del codice civile l'articolo 2709 e 2710 del codice civile e stabilisce inoltre che gli obblighi di numerazione progressiva e di dimazione e bollatura laddove previsti per i libri cartaci nei libri digitali non ci sono più perché sono assolti attraverso l'inserimento della firma digitale e della marcatura temporale marcatura temporale che come vedremo è assicurata all'interno del portale libri digitali a chi si applica questo articolo quindi a chi si applica la normativa sulla dematerializzazione dei libri di impresa parliamo dell'articolo 2214 del codice civile quindi libri contabili obbligatori ai fini civilistici quindi ad esempio libro giornale e libro inventari si applica all'articolo 2421 del codice civile quindi in questo caso si fa riferimento ai libri sociali obbligatori quindi libro dei soci libro delle adunanze deliberazioni delle assemblee del consiglio di amministrazione e altri poi li vedremo comunque all'interno del portale e si applica anche ai libri contabili previsti o richiesti dalla normativa tributaria registriva acquisti vendite registri dei beni ammortizzabili e altri oltre a questo cambiamento normativo quindi all'inserimento di questo nuovo articolo a partire dal 2009 all'interno del codice civile cambia anche quello che è lo scenario degli obblighi fiscali dovuti all'agenzia delle entrate in particolare faccio riferimento all'imposta di bollo e alla tassa di concessione governativa le novità sono state inserite e sono descritte all'interno del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno del 2014 e sostanzialmente quello che cambia tra libri digitali e libri diciamo gestiti su supporto cartaceo non è l'importo da versare cioè non ho una differenza tra l'imposta di bollo che verso sul libro cartaceo e quella invece sul libro digitale stessa cosa per la tassa di concessione governativa l'importo resta il medesimo cambia la per i libri digitali la modalità di versamento cosa si prevede all'interno di questo decreto si prevede che l'imposta di bollo per i libri digitali debba essere versata in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in modalità esclusivamente telematica tramite F24 con uno specifico codice tributo 2501 il ragionamento dell'importo è sempre lo stesso sappiamo che l'imposta di bollo è proporzionale al numero di scritture quindi l'importo potrebbe variare poi in base alla forma giuridica dell'impresa 16,32 euro in base a ogni 100 pagine questo è il valore di riferimento principale nei libri cartaci nei libri digitali questo importo è identico ma il calcolo che bisogna fare è 16 euro quindi 16 o 32 euro ogni 2500 registrazioni contabili o righe che se ci pensiamo bene tra libri digitali 100 pagine libri cartaci 100 pagine libri digitali 2500 righe registrazioni abbiamo comunque otteniamo lo stesso importo che cos'è cosa significa registrazione contabile non è altro che l'accadimento contabile chiaramente riferito all'ambito dei libri contabili oppure il concetto di righe e invece fa riferimento ai libri sociali i libri sociali obbligatori quindi ad esempio se nel 2022 ho redatto un libro giornale contenente 100.000 registrazioni contabili il calcolo che sostanzialmente dovrei fare è 100.000 registrazioni diviso il valore di riferimento che abbiamo detto essere 2500 per l'importo di riferimento 16 o 32 quindi più o meno per 16 euro sono 640 euro come valore appunto totale quindi ripeto non cambia l'importo da versare cambia la modalità di versamento che per i libri digitali è esclusivamente telematica l'imposta di bollo unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per quanto riguarda invece l'altro importo dovuto all'agenzia delle entrate ovvero la tassa di concessione governativa che per le società di capitale varia in base alla dimensione dell'impresa quindi al capitale sociale registrato il primo gennaio in questo caso mentre ha un valore fisso e diverso per le altre forme giuridiche la tassa di concessione governativa per i libri digitali anche questa deve essere versata in un'unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno anche qui con specifico modello F24 e correlativo codice tributo 7085 quindi 2501 per l'imposta di bollo 7085 per la tassa di concessione governativa quindi diciamo che anche questo va ci conduce verso questa strada della semplificazione perché appunto unica soluzione modalità telematica con appunto delle date e dei periodi di riferimento chiaramente vedremo che all'interno del portale non c'è un controllo sull'assolvimento di questi due importi dovuti all'agenzia delle entrate ma sicuramente diciamo l'importo che invece è necessario per il suo utilizzo come vedremo è il canone di utilizzo del servizio e su questo appunto poi ne parleremo quindi un cambiamento normativo ma anche un cambiamento nella gestione degli oneri dovuti all'agenzia delle entrate quindi abbiamo detto che il nostro articolo di riferimento è l'articolo 2215 bis del codice civile in materia di documentazione informatica che è entrato in vigore il giorno dopo ovviamente della legge quindi parliamo entrato in vigore dal 29 gennaio 2009 inserito dall'articolo 16 comma 12 bis del decreto legge del 29 novembre 2008 numero 185 il decreto anticrisi e poi modificato dal decreto sviluppo del 2011 il numero 70 cosa afferma l'articolo 2215 visto il codice civile afferma che i libri possono essere realizzati predisposti con strumenti informatici quindi si parla di libri repertori scritture e la documentazione che appunto connessa ai libri di impresa afferma inoltre che questi libri questi repertori scritture costituiscono informazione primaria e originale ecco perché possiamo parlare di libri di impresa nativi digitalmente che nascono supporto informatico e chiaramente quando si parla di digitalizzazione e quando si parla di documento informatico sono importanti e qui ve le ho riportate le linee guida su una formazione gestione e conservazione dei documenti informatici pubblicate da Agid agenzia per l'Italia digitale che è agenzia tecnica della presidenza del consiglio che ha il compito di mettere in atto quelli che sono gli obiettivi dell'agenda digitale italiana quindi a livello chiaramente nazionale e quindi Agid ha pubblicato ha rinnovato le linee guida proprio in materia di documentazione informatica e sicuramente questo è un argomento correlato al concetto di dematerializzazione anche dei libri di impresa che vanno a rinnovare le vecchie indicazioni della normativa precedente del 2014 cosa si afferma poi sull'articolo 2215 bis del codice civile si afferma che gli obblighi per i libri digitali gli obblighi di numerazione progressiva e di vedimazione non ci sono più perché sono assolti mediante la posizione di una firma digitale che può essere in due formati differenti sia Cades che Pades questo è anche un altro aspetto che andremo a vedere dopo da parte del legale rappresentante titolare di impresa o da suo delegato e dalla marcatura temporale che invece viene garantita automaticamente dal portale libri digitali chiaramente laddove per un anno non siano state eseguite registrazioni la firma e la marca dovranno essere apposte all'atto della nuova registrazione per cui poi ci sarà il periodo annuale che vi dicevo prima i libri digitali hanno assoluto e pieno valore legale quindi c'è il pieno rispetto del concetto di efficacia probatoria sancito dagli articoli 2709 e 2710 del codice civile che parla appunto di efficacia probatoria dell'imprenditore contro l'imprenditore a prescindere dalla modalità di tenuta diciamo cartacea modalità di tenuta tradizionale e modalità di tenuta digitale che appunto è il focus del webinar di oggi c'è sempre un articolo di riferimento che è l'articolo 2.219 del codice civile che dice cosa dice questo articolo a prescindere da come vai a predisporre i tuoi libri quindi se vai a fare diciamo a creare il verbale di assemblea in maniera tradizionale oppure attraverso il portale libri digitali dovrai rispettare queste regole quindi tutte le scritture di impresa devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità senza spazi in bianco senza interlinea senza trasporti in margine non si possono fare abrasioni e poi evidenziato come ultima voce ma sicuramente non ultima in caso di cancellazioni tutto ciò che viene cancellato tutte le parole cancellate dovranno essere chiaramente visibili questo è un concetto che sicuramente conoscete già è una buona prassi è una prassi fondamentale all'interno della gestione cartacea ma lo diventa anche all'interno del portale libri digitali infatti vedremo che tutte le cancellazioni che vengono eseguite all'interno del portale dovranno essere chiaramente visibili per rispettare appunto questa regola prevista dall'articolo 2.219 del codice civile quali sono le caratteristiche del portale libri digitali allora in cima vedete due strumenti ad oggi fondamentali per fare praticamente tutto che sono lo speed o la carta nazionale dei servizi si accede al portale libri digitali esclusivamente attraverso un sistema di autenticazione forte quindi attraverso un'identità digitale speed sistema pubblico di identità digitale di secondo livello cosa significa significa che è richiesto per l'accesso delle credenziali sono richieste delle credenziali di autenticazione rappresentate dal nome utente e dalla password oltre un secondo fattore di autenticazione che in base al gestore al quale abbiamo richiesto lo speed potrebbe diciamo essere di diversa natura il secondo fattore di autenticazione potrebbe essere una notifica push che ci arriva sul cellulare la possibilità di inquadrare con il nostro smartphone o tablet un QR code che ci compare in fase di autenticazione oppure banalmente un codice OTP OTP sta per one time password che ci arriva tramite sms oppure generato da un'apposita app di riferimento quindi si accede al portale dei libri digitali con lo speed di secondo livello oppure con la carta nazionale dei servizi ovvero il certificato di autenticazione presente all'interno di un dispositivo fisico il quale potrebbe essere una tesserina quindi la smart card oppure una chiavetta usb che viene collegata al nostro dispositivo al nostro computer questo che cosa ci garantisce garantisce sicuramente una nostra sicurezza in fase di autenticazione perché ormai il decreto semplificazione il primo decreto semplificazione numero 76 del 2020 all'articolo 24 ci parla proprio di quegli strumenti ci dice quali sono gli strumenti utili per poter effettuare l'accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni o dei gestori di pubblici servizi quindi l'articolo 24 dice chiaramente che puoi accedere ai servizi online con lo speed con la cns con la carta di identità elettronica e quindi siccome il portale come vi dicevo prima garantisce stato costruito a immagine e somiglianza di quella che è la normativa di riferimento anche per l'accesso saranno richiesti questi due strumenti perché sicurezza perché vengono rilasciati sia lo speed che la cns cns sicuramente c'è la possibilità di richiederlo in camera di commercio da soggetti qualificati quindi da soggetti che annualmente subiscono un processo di verifica da parte dell'autorità di sorveglianza rappresentata da Agid quindi nostra sicurezza nell'accesso poi qui vediamo pago PA perché perché come vi anticipavo all'inizio del webinar il servizio libri digitali è sottoposto al pagamento di una tariffa alla camera di commercio che è sicuramente una tariffa vantaggiosa perché perché è una tariffa annuale quindi si versa è da versare una volta all'anno e garantisce quindi il versamento di questa tariffa annuale l'utilizzo di tutte le funzionalità presenti all'interno del portale quindi cosa posso fare io posso caricare tutti i libri di mio interesse all'interno del portale e utilizzarne tutte le funzionalità ma non solo non solo e poi le funzionalità le vedremo non solo posso caricare tutti i libri che desidero all'interno del portale ma li conservo anche a norma per dieci anni quindi vado a diciamo a rispettare quello che è un obbligo normativo di riferimento in tema di conservazione a norma perché vantaggiosa innanzitutto vi dico già che la tariffa prevista dalla camera di commercio di Parma sull'utilizzo del servizio tariffa annuale è di 50 euro più IVA attraverso il versamento di questa tariffa appunto utilizzo il portale non ho un limite massimo di libri che potrei caricare ma soprattutto li conservo a norma per dieci anni dieci anni partono ovviamente dalla data di invio in conservazione a norma che viene stabilita automaticamente dal portale ritorno perché vantaggiosa perché se ci pensiamo ogni qualvolta che ci richiamo fisicamente in camera di commercio per andare ad assolvere gli obblighi previsti dalla normativa di mazione bollatura e così via ogni qualvolta sono previsti i diritti di segreteria quindi ogni qualvolta che ci richiamo fisicamente in camera invece in questo modo attraverso l'utilizzo del portale non solo non devo recarmi fisicamente in camera di commercio quindi anche con un dispendio di tempo per potermi appunto fisicamente regare all'ufficio di riferimento ma sostanzialmente un risparmio dal punto di vista di gestione delle scritture di impresa unico versamento che mi consente di depositare tutti i libri che voglio e di conservarli a norma per dieci anni perché pago PA perché è possibile all'interno della piattaforma andare a versare il canone rivolto appunto la camera di commercio attraverso lo strumento pago PA che è lo strumento che rappresenta per andare per tutti quei pagamenti rivolti alle pubbliche amministrazioni quindi attraverso pago PA attraverso una procedura molto molto semplificata vado a versare questo canone annuale ma non solo non solo vedo pago PA ma vedo anche i conto questo perché ha i conto l'istituto di pagamento di infocamere quindi per i pagamenti rivolti alle camere di commercio ma anche alle altre pubbliche amministrazioni quindi i correntisti che adottano questo sistema di pagamento hanno la possibilità di trovare all'interno del portale libri digitali l'integrazione e la possibilità di andare a versare anche gli obblighi dovuti all'agenzia delle entrate quindi parliamo dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa in questo caso i correntisti di conto avranno già dei modelli F24 precompilati con lo specifico codice tributo quindi 2501 7085 ovviamente non è un obbligo nel senso c'è anche questa possibilità ma ovviamente per chi non è non utilizza i conto abbiamo detto che non c'è un controllo sul versamento di questi due oneri ma sicuramente è necessario per il suo utilizzo il versamento del canone dovuto appunto alla camera di commercio vediamo anche le deleghe deleghe che possono essere conferite dal legale rappresentante d'impresa o dal titolare verso dei soggetti di fiducia che possono essere interni all'impresa quindi interni all'organizzazione ma anche esterni e come vedremo il portale prevede due diverse tipologie di deleghe delega operativa e delega firmatario anche questo lo vedremo dopo la marcatura temporale la marcatura temporale viene garantita dal portale libri digitali quindi non devo fare alcuna azione manuale per marcare temporalmente documenti che sono caricati all'interno del portale perché viene eseguita automaticamente che cosa è una marcatura temporale marcare temporalmente un documento significa inserire una data e ora certa di creazione di quel documento perché è importante perché si parla di marcatura temporale riferita e perché è stata inserita nel portale libri digitali perché essa solve due obiettivi molto importanti innanzitutto garantisce la consecuzio temporale quindi quel concetto di quell'obbligo di numerazione progressiva dei libri cartaci viene in un certo senso sostituito anzi in un certo senso viene sostituito nei libri digitali dalla posizione della marca temporale quali sono i due obiettivi da un lato garantire una maggiore certezza della firma digitale perché come vedremo tutti i documenti che sono caricati che vengono caricati all'interno del portale devono essere firmati digitalmente o dal legale rappresentante titolare o dal suo delegato ma devono essere marcati marcati automaticamente nel sistema ebbene cosa potrebbe accadere potrebbe accadere di firmare un documento digitalmente oggi e il giorno dopo la mia firma scadere perché sapete che una firma digitale ha un determinato periodo di validità ebbene la posizione anche della marcatura temporale rende a tutti gli effetti e sicuramente con maggiore forza quel documento opponibile a terzi in caso ovviamente di controversie questo è il primo obiettivo l'altro obiettivo la marcatura temporale è uno strumento previsto dalla normativa sulla conservazione a norma dei documenti informatici e qui si fa riferimento all'articolo 44 del codice dell'amministrazione digitale il decreto legislativo numero 82 del 2005 che è la normativa di riferimento in tema di informatizzazione della pubblica amministrazione nei rapporti appunto tra cittadini e imprese ebbene quindi i libri quando vengono abbiamo detto che vengono automaticamente marcati dal portale non solo all'atto del caricamento ma anche quando sono inviati in conservazione a norma e la conservazione è automatica lo vedremo dopo quindi vengono marcati in fase di caricamento ma anche in fase di conservazione a norma ultima caratteristica la catalogazione vedremo che all'interno del portale c'è una sorta di struttura d'albero che consente quindi abbiamo in cima quello che è il fascicolo annuale dei libri di impresa poi vediamo la macro categoria di un libro ad esempio libri contabili e poi la tipologia libro giornale stesso concetto ad esempio libri sociali troverò il libro dei soci e poi il documento che va a costituire va a formare il libro appunto di riferimento questa struttura d'albero come vedremo consente una ricerca veloce sicuramente veloce e puntuale che è proprio uno dei vantaggi sostanziali rispetto alla gestione cartacea perché ad esempio nella gestione cartacea sicuramente è più complicato andare a ricercare un'informazione un verbale un'informazione particolare piuttosto che invece fare una ricerca puntuale in un sistema informatico come vedremo può essere eseguita una ricerca per parola chiave ma anche all'interno diciamo fare una ricerca un po' più avanzata utilizzando dei filtri non solo nel fascicolo annuale dei libri ma anche o chiaramente in un documento quindi quali sono gli obiettivi del portale libri digitali sicuramente il principale vantaggio è la riduzione dei costi e l'ecosostenibilità quindi abbiamo detto non ho più la necessità di acquistare documentazione cartacea per la loro appunto formazione non devo avere necessariamente degli spazi fisici per la loro tenuta perché abbiamo detto che io potrei appunto crearli con strumenti informatici e conservarli tenerli quindi si parla di gestione archiviazione e conservazione a norma all'interno del portale sicuramente un iter semplificato perché appunto è possibile eseguire una ricerca puntuale per farlo la chiave e sono sicuri perché i libri digitali perché sono conservati dalla camera di commercio che ne garantisce il loro benestare cosa significa conservati dalla camera di commercio nel soggetto di infocamere che è un soggetto accreditato per la conservazione a norma dei documenti un dettaglio importante la camera di commercio non ha accesso ai contenuti dei vostri libri quindi è assicurato c'è il pieno rispetto della privacy della riservatezza dei documenti che andrete a pubblicare e a caricare all'interno del portale quindi l'accesso alla documentazione sarà consentito esclusivamente al sottoscrittore del servizio quindi al legale rappresentante o titolare di impresa e dei relativi eventuali delegati delegati con delega a tutto tondo la delega diciamo al 100% con la possibilità di utilizzare le funzionalità del portale perché vi dicevo che in realtà ci sono due deleghe differenti una al 100% e l'altra diciamo al 50% e poi lo vedremo parliamo di conservazione allora vi parlavo della tariffa annuale vantaggiosa perché non solo posso caricare tutti i libri che vorrei ma anche garantire la conservazione a norma dei miei libri banalmente se io decidessi un giorno di non utilizzare più il servizio della camera di commercio mi sarà comunque garantita la consultazione in vista appunto di dieci anni di conservazione a norma conservazione che viene realizzata da infocamere che appunto vi accennavo essere un soggetto qualificato per la conservazione a norma presso Agid dall'ottobre del 2015 con due server per la gestione e conservazione dei dati uno di business continuity e l'altro di disaster recovery quindi assolutamente una conservazione sicura in vista appunto dei concetti nel rispetto della riservatezza nessuno può accedere al contenuto dei nostri documenti se non io che sono imprenditore o i miei delegati autenticità integrità immodificabilità e fruibilità perché appunto vi ho parlato di una ricerca puntuale come avviene la conservazione la conservazione nel portale libri digitali può essere di due tipologie abbiamo la conservazione automatica e la conservazione on demand cosa significa conservazione automatica significa che il portale sa esattamente quando quel libro dovrà essere inviato o meno in conservazione a norma sulla base di tre parametri alternativi la normativa vigente la classificazione o tipologia del libro è il periodo di imposta che viene indicato in fase di adesione e registrazione dell'impresa al servizio in realtà l'individuazione e la scelta del periodo di imposta può essere effettuato anche in un secondo momento quindi è un'informazione che comunque può essere modificata non deve essere fatto esclusivamente questa scelta in fase di registrazione e di adesione al servizio ma si può modificare quindi il portale sa in base a quello che è il libro quindi la tipologia specifica in base a quella che è la normativa e in base al periodo di imposta che è stato individuato e inserito nel sistema quando quel libro dovrà essere inviato in conservazione la normativa in generale dice che i libri dovranno essere inviati in conservazione entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla presentazione e dichiarazione dei redditi questa diciamo che è la normativa generale ma ci possono essere delle eccezioni legate ad esempio alla tipologia del libro come ad esempio il LUL il libro unico del lavoro per questa tipologia di libro si prevede che debba essere inviato in conservazione entro 30 giorni dalla sua predisposizione e quindi il sistema sa riconosce la tipologia di libro che è stato caricato e sa esattamente che entro 30 giorni quel libro dovrà essere inviato in conservazione a norma quindi non solo abbiamo la conservazione automatica sulla base appunto di questi tre parametri alternativi ma ho anche un'altra possibilità ho la cosiddetta conservazione on demand potrei avere delle esigenze specifiche ad esempio una richiesta di un controllo fiscale sui libri che sono chiaramente conservati a norma in questo caso potrei inviarli in conservazione prima di quello che mi dice la normativa oppure ci sono delle procedure concorsuali in corso insomma delle esigenze particolari che mi spingono a voler inviare in conservazione quel libro prima dei tre parametri che vi raccontavo prima in questo caso è prevista la conservazione on demand quindi invio quel libro in conservazione adesso in realtà non è immediata perché c'è un tempo tecnico tra il click sul tastino che vedremo invia il libro in conservazione e l'effettiva conservazione eseguita dal portale c'è un tempo tecnico di 24 48 ore questo per dirvi che comunque avrete anche questa possibilità quindi si parla di una conservazione automatica dove non dovrò effettuare alcuna azione manuale per assolvere l'obbligo di conservazione oppure per esigenze particolari un invio in conservazione on demand su richiesta e questo è un po' quello che indica la normativa in tema di conservazione a norma come vi dicevo salvo eccezioni che sono collegate alla tipologia del libro specifico questi dovranno essere conservati entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi in base chiaramente a quello che è il vostro periodo di imposta di riferimento il portale sa quando parliamo di digitalizzazione allora io chiaramente non mi sono fermata non mi sono fermata ma se avete delle domande quindi qualcosa che magari era stato poco chiaro durante la trattazione fino adesso potete vi ricordo inserirle utilizzando la funzione question and answer domande e risposte che trovate in basso in basso lo strumento zoom quindi vi dicevo quali sono le fasi di dematerializzazione dei libri di impresa sono fondamentalmente le tre che vedete nella nella slide dove la tenuta del documento e la conservazione sono garantite dal portale libri digitali ma non la formazione del documento mi spiego meglio il documento non può essere formato all'interno del portale libri digitali ma questa operazione viene eseguita all'esterno vado a fare la redazione del documento secondo quelle che sono le mie regole per le diverse tipologie del libro creo il mio documento con word ma poi devo fare un'operazione importante trasformare quel documento nel formato pdf barra A e l'opzione barra A la trovate proprio quando fate il salva con nome del documento trovate ad un certo punto nelle impostazioni l'opzione A che garantisce l'immodificabilità e la sicurezza di quel documento nel corso del tempo quindi trasformate il vostro documento il vostro libro nel formato pdf barra A e sarà poi necessario firmarlo digitalmente quindi realizzato con word lo trasformato nel pdf barra A l'ho firmato con una firma digitale chi lo firma e come lo firma lo può firmare chiaramente l'imprenditore quindi potete con la vostra firma digitale inserire la firma digitale nel documento ma può firmarlo anche un vostro delegato quindi un soggetto che è stato inserito censito da voi all'interno del portale libri digitali questa fase quindi avviene all'esterno ovviamente perché si fa la firma digitale perché mi va a garantire l'integrità l'autenticità e il non ripudio del documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del codice dell'amministrazione digitale ma anche ai sensi di un regolamento madre sul tema dei certificati digitali che è il regolamento europeo EIDAS il numero 910 del 2014 che parla appunto anche dei certificati di firma digitale di firme elettroniche in realtà l'espressione corretta è firme elettroniche e in particolare quando si parla di firma digitale si parla di una firma elettronica qualificata rilasciata da un soggetto certificato quindi creo il mio documento lo trasformo nel pdf barra A lo firmo digitalmente io imprenditore oppure un mio delegato e lo vado a inserire caricare all'interno del portale quindi qui entrano in gioco le altre due fasi la tenuta del documento che avviene all'interno del portale e la conservazione a norma quando si va a caricare il documento il portale verifica la presenza della firma digitale che il documento caricato sia nel pdf barra A e chiaramente se appunto quel documento quella firma che è stata inserita è una firma valida cioè banalmente se provo a caricare un documento con una firma scaduta quindi una firma revocata la piattaforma sicuramente ne impedirà il caricamento perché vi vi fornisco questo dettaglio sempre per quelle ragioni di sicurezza di vostra tutela nella gestione corretta di un libro di impresa quindi questi controlli per poi appunto marcarlo temporalmente abbiamo detto che viene marcato il libro non solo quando viene caricato ma anche quando poi sarà inviato in conservazione ed è l'ultima fase che vedete all'interno della slide quindi la conservazione all'interno del portale per dieci anni ne garantisce l'integrità e l'immodificabilità nel tempo e la leggibilità nel tempo che era quell'importante vantaggio che vi raccontavo all'inizio del webinar cioè i libri cartacei sicuramente sono soggetti a deterioramento nel corso del tempo sono più soggetti a deterioramento mentre sicuramente i libri digitali non vanno incontro a queste problematiche a maggior ragione che la conservazione viene eseguita da un ente certificato che ha due server per la conservazione dei dati viene eseguita una conservazione automatica sulla base quindi fa tutto il portale sulla base della normativa dalla tipologia del libro e del periodo di imposta ma c'è anche la possibilità nel caso in cui abbiate un controllo fiscale di inviare un libro in conservazione prima della diciamo di quello che prevede la normativa allora vedo una domanda di Silvia allora assolutamente io darò comunque la disponibilità di queste slide alla camera di commercio quindi chiaramente ci sarà la possibilità di condividerle ok quindi fasi principali come si accede al portale innanzitutto non vi ho fornito un'indicazione importante la ritrovate comunque specificata anche sul sito della camera di commercio nella parte relativa a quella che è la spiegazione del portale libri digitali trovate chiaramente anche il link per poter accedere al portale non occorre scaricare nulla quindi non occorre scaricare un software sul vostro computer ma si accede ovviamente online all'indirizzo libridigitali.com.it abbiamo detto che l'accesso è un accesso forte che avviene attraverso o lo speed di secondo livello oppure la cns la carta nazionale dei servizi qual è l'altro importante vantaggio non solo non devo scaricare avere un gestionale scaricato installato sulla mia postazione ma soprattutto io attraverso questi strumenti in particolare con speed potrei accedere ai miei libri quindi al mio libro soci al mio libro giornale al mio libro inventari a tutti i libri che si possono caricare in piattaforma dallo smartphone quindi non ho la necessità di essere fisicamente in ufficio per andare a inviare un documento che mi viene richiesto da un collaboratore o dal mio professionista di fiducia perché ho tutto a disposizione e tutto accessibile dallo smartphone accedendo chiaramente con speed oppure se avete acquistato il dispositivo la digital dna key il nuovo dispositivo che è il dispositivo meglio innovativo rilasciato dalla camera di commercio avrete la possibilità di accedere anche attraverso lo smartphone perché in questo caso il dispositivo la chiavetta utilizza anche la tecnologia bluetooth quindi questo per dirvi che comunque è un servizio accessibile in ogni momento come quando si vuole anche in mobilità la prima operazione da effettuare quando si utilizza il portale è andare ad aprire il fascicolo annuale quindi ho eseguito la registrazione cosa significa fare la registrazione significa inserire i dati della mia impresa che bisogna che vuole appunto aderire al servizio libri digitali fatta l'operazione di registrazione c'è poi l'operazione di attivazione che altro non è che il versamento tramite pago PA del canone annuale 50 euro più IVA ho diciamo fatto tutto tutto quello che era necessario per poter aderire al servizio fatte queste operazioni per poter inserire dei libri sarà necessario aprire il fascicolo annuale dovete immaginarlo come una sorta di grande contenitore dove saranno conservati dove saranno inseriti il termine corretto inseriti tutti i libri per l'anno in corso quindi la prima operazione da fare sarà sicuramente aprire il fascicolo annuale 2023 quindi si va su gestione libri e poi su apri fascicolo anno ed è si dà un conferma e sostanzialmente quindi un'operazione molto molto semplice allora si può vedo un'altra domanda si può delegare qualcuno all'adempimento o deve essere esclusivamente legale rappresentante allora se si intende in questo caso se Silvia intendi la registrazione cioè se la domanda è la registrazione al servizio posso farla devo farla io per forza che sono legale rappresentante titolare di impresa può farlo qualcun altro la risposta è può farlo anche qualcun altro per conto nostro infatti appunto la registrazione al portale può essere eseguita da un intermediario quindi una persona di fiducia che fa delle operazioni adesso le vediamo per conto nostro oppure direttamente la registrazione al servizio può essere diciamo eseguita direttamente dall'imprenditore allora questa è una domanda interessante nel momento in cui si decide di aderire è possibile scegliere solo una tipologia di documenti oppure è necessario che venga scelta la digitalizzazione per tutti assolutamente no non c'è un vincolo cosa significa significa che io ho margine di scelta quindi potrei decidere di gestire dei libri di continuare a gestire i miei libri alcuni libri nella modalità tradizionale quindi cartacea e altri invece decidere di crearli nella modalità digitale quindi di conservarli a norma all'interno del del portale quindi non c'è assolutamente un un vincolo quindi l'apertura del fascicolo annuale fatta questa operazione diciamo che dobbiamo immaginarci la il fascicolo anno il fascicolo annuale così rappresentato come lo vedete nella slide dove ho il mio fascicolo rappresentato all'anno 2023 le diverse sezioni sono ad esempio la categoria libri contabili e poi abbiamo ad esempio la tipologia libro giornale libro degli inventari oppure la categoria registri IVA registro IVA acquisti e vendite ogni libro chiaramente è costituito da delle pagine nei libri digitali queste pagine sono dei documenti informatici infatti e qui vi ho inserito quella che è la definizione principale di un di che cos'è un libro digitale è un documento informatico nel formato pdf barra che regarantisce le modificabilità nel corso del tempo che viene firmato digitalmente da legale rappresentante o da suo delegato che viene marcato temporalmente il grey automaticamente dal sistema e conservato a norma per dieci anni e qui vi abbiamo appunto inserito nella parte a destra della slide la rappresentazione proprio del catalogo ad albero della catalogazione ad albero disponibile all'interno del portale vedo un'altra domanda si può delegare all'accesso e gestione anche un dipendente non intermediario in possesso di speed assolutamente sì quindi noi possiamo noi imprenditori potete delegare un qualche vostro dipendente quindi ovviamente una persona di fiducia interna all'organizzazione interna all'impresa ma anche esterna non necessariamente un intermediario nella figura di un professionista ma altri soggetti di vostra fiducia proprio ad operare all'interno del portale cioè voi potete decidere di conferire loro una delega a tutti gli effetti ad operare e utilizzare tutte le funzioni disponibili nel portale quindi caricare i libri inviarli in conservazione fare un'estrazione di un report sui libri gestiti all'interno del portale e così via ad un'altra persona quindi sì potete individuare quella che è la persona di fiducia ad intervenire e ad aiutarvi nella gestione dei libri dei libri di impresa chiaramente però questa persona deve essere configurata deve essere inserita all'interno del portale allora c'è un'altra domanda il canone annuale comprende anche la conservazione non demand di taluni documenti che si decide di conservare digitalmente prescindendo dall'obbligo di legge sì comprende diciamo anche questa funzionalità quindi assolutamente sì allora c'era un'altra domanda all'inizio che magari questa poi la teniamo alla fine perché è particolarmente normativa quindi magari poi la gestiamo alla fine del webinar allora quindi tornando alle funzionalità del portale come vi dicevo c'era una domanda su questo le operazioni di adesione al servizio può essere eseguito sia direttamente da voi imprenditori ma anche da un altro soggetto che opera in qualità di intermediario allora adesso vi mostro sia l'attivazione l'adesione al servizio eseguita direttamente dall'imprenditore sia eseguita da un intermediario ma vediamo prima quella che potreste fare voi attraverso l'ausilio di un video allora qui sono vedete nel portale libridigitali.cancom.it in basso trovate dei tutorial dei tutorial che vi aiutano proprio nel capire le funzionalità principali in particolare troverete l'attivazione del contratto come legale rappresentante che è proprio il video che vorrei mostrarvi adesso registrare l'impresa quando invece non si è un imprenditore ma si agisce il nome per conto dell'imprenditore legale rappresentante titolare come si fa il caricamento del libro come si invia in conservazione anticipata quindi parliamo della conservazione on demand come si ricercano i libri e come assegnare le deleghe a collaboratori quindi dipendenti o a consulenti a professionisti allora vediamo adesso l'attivazione del contratto fatta direttamente da voi da voi imprenditori vedrete che sono dei passaggi veramente molto molto semplici allora invio faccio partire il video per registrare la tua impresa e attivare il servizio vai sul portale libridigitali.cancon.it ed esegui il login con il tuo speed o la tua cns grazie all'accesso con l'identità digitale il sistema ti riconosce e poiché sei legale rappresentante nel registro delle imprese dovrai selezionare la tua impresa e inserire il tuo indirizzo di posta elettronica e quello della tua impresa dopo aver verificato le informazioni riepirogative e compilato il riquadro relativo al periodo di imposta confermando l'operazione il sistema genera il contratto con le condizioni di utilizzo che dovrai firmare digitalmente carica il contratto firmato tramite il menu gestione impresa cliccando su attive e prosegui cliccando su invia contratti a video il sistema ti informerà che il contratto è stato acquisito dal sistema salvo eventuale periodo di gratuità se previsto dalla tua camera di commercio versa il canone annuale e comincia ad utilizzare il servizio il servizio libri digitali è disponibile anche da smartphone e tablet quindi diciamo come avete visto l'operazione di registrazione attivazione è veramente molto molto semplice allora in realtà quando prima qualcuno di voi mi ha chiesto le operazioni l'utilizzo del portale può essere diciamo fatta può essere utilizzato da un collaboratore un dipendente la domanda era anche attraverso il sospid della CNS chiaramente sì diciamo che nel momento in cui andate si va ad inserire una delega quindi delegate un'altra persona ad accedere a utilizzare il servizio dovrà accedere chiaramente col suo speed o la sua CNS quindi assolutamente non possiamo fornire loro i nostri strumenti di autenticazione che vi ricordo sono assolutamente personali e nella vostra piena ed esclusiva disponibilità quindi operazioni molto semplici per registrare per aderire al servizio qual è la differenza se decidete quindi di affidarvi a un'altra persona un altro soggetto per effettuare la registrazione sostanzialmente le informazioni da inserire sono le stesse quindi l'intermediario effettuerà l'accesso con le sue credenziali quindi col suo speed o con la sua CNS per atterrare appunto nella console di gestione perché vi mostro anche questa procedura perché in realtà ci sono molti punti in comune con quella che potreste fare direttamente voi quindi fate l'accesso con speed o CNS nella console di gestione quindi libridigitali.com.it atterrate in questa pagina andate su gestione impresa quindi in menu in alto e poi su registra impresa si vanno ad inserire il codice fiscale dell'impresa il codice fiscale del legale rappresentante e in automatico il portale mantiene fleggata l'opzione dell'attivazione dei delegati quindi già in questa fase sarà possibile inserire dei delegati all'utilizzo del portale si inseriscono alcune informazioni non tutte perché vi troverete già delle informazioni valorizzate dal registro delle imprese quindi ad esempio la provincia la denominazione dell'impresa e così via i campi bianchi sono invece quelli da inserire manualmente quindi importante inserire l'email o la PEC di omicidio digitale dell'impresa qui non c'è un obbligo tra PEC e mail ordinaria nel senso che potreste inserire la PEC potreste inserire un indirizzo di posta ordinaria l'importante questo mi raccomando che sia un indirizzo consultato di frequente perché proprio qui arriverà tutta la documentazione relativa all'utilizzo del servizio ma anche quella che è il reminder sulla scadenza del contratto poi si vanno ad inserire i dati in questo caso del richiedente quindi della persona che sta agendo per conto vostro nella registrazione nell'adesione dell'impresa al servizio quindi email il telefono e poi si clicca su nuovo qui diciamo questi sono degli elementi in comune con la vostra operatività nel senso che queste sono le informazioni che devono essere inserite per i delegati e qui è importante l'ultima voce vedete tipo di delega ci sono due tipi di delega operativa puoi fare tutto quindi la persona che andrete ad inserire con delega operativa ha le stesse funzionalità 99% di funzionalità che avrete voi mentre la delega firmatario viene assegnata a quei soggetti che non devono operare nel portale dei libri digitali ma che dovranno essere riconosciuti come soggetti titolati alla firma dei documenti ad esempio deposito del bilancio il verbale d'assemblea viene firmato dal presidente o dal segretario questi non sono soggetti che dovranno agire nel portale ma dovranno essere riconosciuti come soggetti firmatari quindi soggetti autorizzati alla firma di quel documento ecco perché si inserisce la delega firmatario quindi una delega dove si può fare sostanzialmente tutto e un'altra semplicemente ti inserisco perché il sistema deve riconoscerti come soggetto che può firmare il verbale quindi si clicca eventualmente si ovviamente spunta la dichiarazione di acquisizione legittima dei dati e poi vedete qui c'è quello che andrete ad inserire anche voi in fase di registrazione ovvero la scelta del periodo di imposta anno solare proposto automaticamente dal sistema primo gennaio 31 dicembre un periodo diverso dall'anno solare oppure il sopraggiungere di un evento straordinario fusione scissione procedura concorsuale e così via quindi qui andate a indicare il tipo di evento e la data di riferimento non vi preoccupare non c'è diciamo nulla è difficile perché poi se cliccate sulla informativa il portale vi suggerisce in base alla tipologia di evento che avete selezionato ad esempio una una scissione una insomma la procedura di riferimento qual è la data da inserire quindi vi aiuta anche in questo senso cliccate su prosegui e il sistema quindi vi propone le condizioni generali del servizio che saranno da sottoscrivere digitalmente e se avete inserito anche le deleghe anche le deleghe allora come si firma il contratto il contratto bisogna scaricarlo dal portale lo ritroverete già nel formato pdf barra mi raccomando non effettuate delle modifiche quindi mi raccomando a non rinominarlo o a modificarlo perché altrimenti in fase di caricamento dopo averlo firmato caricamento nel portale il sistema non lo riconoscerebbe come non originale quindi è necessario scaricarlo aprirne il contenuto quindi leggerne attentamente il contenuto firmarlo digitalmente in Cades P7M e caricarlo nel sistema stessa operazione andrà fatta per il contratto di delega quindi si va su attiva impresa e quindi caricate sia il contratto sia quindi qua avete la possibilità anche di stampare la ricevuta e poi caricate anche le deleghe che sono state appunto inserite dopo la registrazione dell'impresa al servizio sarà necessario versare alla Camera di Commercio il canone annuale in questo caso troverete la voce dove vedete in alto gestione impresa ci sarà un'altra voce attiva impresa che vi permette di farlo allora direi che in questi diciamo 15 minuti più che che ci mancano andiamo a vedere il portale quindi vedete sono su libri digitali questo è un ambiente vero libridigitali.com.it tanto mi chiudo questa pagina in alto quelle che sono le voci principali cos'è come funziona pagamenti online sicurezza conservazione i tutorial e poi il supporto il supporto ve lo consiglio perché in caso di problemi di utilizzo del portale problemi dal punto di vista tecnico avete la possibilità di contattare l'assistenza chiamando questo numero oppure inviando una mail a questo indirizzo il contatto telefonico è attivo lunedì e venerdì dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 quindi accedo al portale allora vado in un ambiente di test quindi vado qui vado su io accedo con speed quindi entro con speed seleziono il mio gestore di riferimento inserisco la password autorizzo allora vedete che qui adesso qui mi ha buttato fuori perché la pagina diciamo l'ambiente di test era attivo da un po' quindi effetto nuovamente l'accesso autorizzo la vedete che non mi ha chiesto il secondo fattore di autenticazione perché sono in un ambiente di test ma nell'ambiente vero sarà necessario inserire l'OTP insomma o il fattore di autenticazione del vostro gestore qui vedete anche diverse imprese dove risulto legale rappresentante e delegato ma perché appunto ripeto è un ambiente di test allora vado all'interno della mia console di riferimento quando atterrate nella console troverete i dati principali della vostra impresa lo stato di accesso al servizio quindi lo stato del canone che avete attivato versato alla camera di commercio il periodo di imposta che avete selezionato è una panoramica attraverso l'ausilio di grafici a torta dei libri che state diciamo caricando all'interno del portale con la percentuale di riferimento come si va ad aprire il fascicolo annuale che abbiamo detto è la prima operazione da effettuare all'interno del portale si andrà sulla voce gestione libri e la prima voce di menu sarà apri fascicolo anno e si conferma ovviamente se provo a farlo mi dice non lo puoi fare perché il fascicolo del 2023 l'hai già aperto ce l'hai già aperto fatta questa operazione quindi prima operazione aprire il fascicolo annuale posso andare a caricare i miei libri quindi in particolare andrò su gestione libri apri fascicolo libri qui in automatico troverete le informazioni in azzurrino sono sempre quelle che vengono automaticamente predisposte dal portale categoria tipologia del libro quindi devo caricare un libro contabile devo caricare un libro registro obbligatorio previsto da leggi speciali un libro sociale il libro unico del lavoro registriva o altri quindi prima seleziono la categoria ad esempio io andrò su libro contabile seleziono la tipologia del libro specifico quindi che rientra nella macro categoria del libro contabile ad esempio inventari inserisco una descrizione del del mio libro adesso passatemi diciamo vado vado velocemente inventari da ok il periodo di imposta quindi tutte le informazioni che trovate contrassegnate con un asterisco sono chiaramente informazioni obbligatorie clicchiamo su apri libro confermiamo come vedete l'ho fatto velocemente ma quella maschera che si è aperta mi ha detto chiaramente ho calcolato questa data ultima di invio in conservazione sulla base dei tre parametri che vi raccontavo prima dopo l'apertura del libro mi dice ma vuoi anche inserirci le pagine del tuo libro inventari quindi contestualmente mi dà la possibilità di inserire anche dei documenti quando dico documento sono le pagine del mio libro inventari quindi vado si prosegui le prime tre informazioni sono già precompilate andrò anche qui ad inserire una descrizione inventari da pagina 1 a pagina 50 e vado a inserire il mio documento il documento vi ricordo dovrà essere nel formato pdf barra firmato digitalmente o da voi oppure da un delegato con delega operativa ma anche firmatario perché abbiamo detto che diciamo anche con delega firmatario l'importante è che sia un soggetto inserito con quella delega quindi pdf barra mentre il contratto mi raccomando il contratto con le condizioni di utilizzo del servizio richiede esclusivamente la firma CADES il libro il documento può essere firmato sia con firma CADES ma anche con firma PADES quindi non c'è in questo senso un obbligo o un vincolo quindi si va su sfoglia si seleziona il documento di riferimento io adesso qui ne prendo veramente uno a portata di mano una volta inserito vedete qui un'anteprima cliccate su carica documento allora qui ho due alert la semplicemente mi dice questo documento ce l'hai già all'interno del fascicolo del 2023 perché chiaramente io poi utilizzo in queste formazioni sempre lo stesso documento ma posso comunque proseguire non ho un blocco in questo senso l'altro alert tutti i documenti che presentano nel nome degli spazi vuoti sono automaticamente sostituiti quegli spazi vuoti dagli underscore ma anche questo è una diciamo una caratteristica tecnica del portale anche questo non è diciamo non vi è d'ostacolo nel caricamento quindi avete qui il dettaglio di chi firma di chi ha firmato il documento e quindi anche della validità della firma digitale perché appunto il portale fa il controllo anche sulla validità del certificato di sottoscrizione trovate un'anteprima del documento che state caricando qui vedete tutto vuoto perché il mio documento è un documento vuoto e quindi dopo l'anteprima cliccate su carica documento e ho sostanzialmente inserito il mio libro inventari l'ho aperto ho aperto il libro inventari e ho inserito le prime x pagine le prime 50 pagine come è fatto il fascicolo annuale quindi la struttura d'albero ho l'anno di riferimento 2023 in base alle categorie vedrò valorizzate le diverse categorie che vado ad inserire quindi in questo caso libro contabile dove ho un libro inventari che vedete è in conservazione on demand quando trovate l'icona del libro chiuso significa che lo avete inviato in conservazione aperto significa che quindi è movimentato è alimentato in corso di redazione libro inventari libro giornale e così via mentre nei libri sociali obbligatori troviamo libro delle adunanze delle liberazioni dell'assemblea libro delle obbligazioni e altri che abbiamo visto nel menu a tendina cosa potete fare allora non solo eseguire una ricerca puntuale vedete qui trovate una lentina in corrispondenza del fascicolo annuale quindi posso ricercare nell'anno per parola chiave cosa che sicuramente è molto difficile nei libri cartaci posso andare a ricercare all'interno della categoria libro contabile ma anche all'interno del singolo libro tutti i documenti li troveremo qui in un libro degli inventari da pagina 1 a pagina 2 le cancellazioni le cancellazioni secondo l'articolo 2.219 del codice civile dovranno essere comunque visibili infatti se voglio inviare ho la possibilità di inviare di cancellare un documento ma tutti i documenti vedete cancellati saranno comunque visibili trovate questa barra sul documento cancellato ma comunque ho le informazioni a portata di mano nel senso che ho la possibilità di eventualmente fare il download del documento cancellato questo perché per andare appunto a rispettare l'obbligo l'obbligo normativo quanto prevede la normativa come si invia un conservazione un libro on demand vado chiaramente sul libro di mio interesse e vedete che qui c'è l'opzione invia il libro in conservazione ci cliccate su qui vi dirà di confermare l'operazione e che il processo di conservazione on demand sarà completato il giorno 13 perché vi dicevo che ci sono un giorno due giorni il tempo tecnico per l'invio in conservazione ma avete comunque la possibilità di annullare l'invio in conservazione il giorno stesso della data prevista quindi il 13 nel nostro caso entro le ore 9 quindi comunque la possibilità di ritornare indietro di annullare questa operazione di conservazione on demand altre caratteristiche allora quindi all'interno della categoria la possibilità di aprire direttamente un libro cliccando su più un libro contabile avete la possibilità di estrarre una serie di informazioni relative al libro che avete caricato e fare una ricerca puntuale attraverso la linchina all'interno invece del documento in questo caso troverete altre funzionalità che è possibile appunto eseguire come si cancella un documento per la cancellazione di un documento troverete l'opzione ed è l'unico tasto che presenta il colore rosso annulla documento quando ci cliccate su il sistema vi chiederà di inserire la motivazione dell'annullamento quindi ci inserite il motivo e poi cliccate su annulla documento e confermate quel documento sarà chiaramente contrassegnato vedete dalla barra che indica appunto che l'avete cancellato altre informazioni utili sempre dal menu quindi apri fascicolo libri per aprire un nuovo libro per caricarlo ricerca fascicoli per andare ad eseguire una ricerca puntuale sul 2023 quindi su tutti i libri che avete caricato ricerca libri ricerca puntuale sul libro ricerca documenti sul documento pagamenti e qui che viene eseguito il pagamento dei 50 euro più IVA quindi del canone annuale alla camera di commercio si va su lista accesso al servizio e in corrispondenza allora qui non lo vedete perché sono in un ambiente di test ma troverete in questa tabellina la voce paga ora o acquista ora che vi rimanda direttamente al nodo pago PA per effettuare il pagamento nelle diverse modalità dei PSP che sono prestatori di servizi di pagamento che sono collegati al nodo pago PA quindi dopo l'acquisto quindi si fa direttamente da qui l'acquisto del servizio quindi il versamento la camera di commercio di Parma del canone previsto e poi come vedete per i correntisti di conto abbiamo anche quel collegamento che vi dicevo con l'F24 precompilato per l'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa nella riportistica avrete a disposizione dei grafici ma anche un riepilogo tabellare dei libri che avete caricato all'interno del portale libri digitali sia una grafica tabellare ma anche attraverso l'utilizzo di grafici a torta quindi ad esempio qui vedo che ho caricato per i libri sociali 50 e 50 tra libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee e libro delle obbligazioni mentre per i libri contabili libro giornale e libro degli inventari quindi troverete un po' questa riportistica sia sui libri che è caricato nel portale ma anche su quelli che sono stati inviati in conservazione attenzione un aspetto importante il portale vi permette anche l'esibizione a norma sui libri l'esibizione ovviamente viene eseguita su quei libri che sono stati già inviati in conservazione in caso di un controllo fiscale ed è un'operazione veramente molto semplice perché vi basterà cercare il libro di interesse adesso io vado su qualche anno precedente qui abbiamo soltanto 2022 torno un attimo in una in un'altra impresa quindi andate su il libro di vostro interesse che risulta chiaramente chiuso e ve ne rendete conto perché oltre ad essere chiuso trovate anche quel simbolino sull'icona quindi se voi andate sulla i vedete che c'è qui il tasto esibizione a norma quindi c'è il collegamento diretto con il servizio integrato per effettuare l'esibizione in caso appunto di controllo quindi anche questa è sicuramente una delle funzionalità e dei vantaggi che troverete diciamo all'interno del portale ultima informazione configurazione la possibilità di andare ad inserire nuove deleghe di attivare le deleghe di avere una lista dettagliata di chi sono delegati con delega al 100% e con delega firmatari ma anche cambiare il periodo di imposta rispetto invece a quello che avete inserito in fase di registrazione cosa sono le etichette sono delle diciamo vedete delle etichette che si possono inserire in corrispondenza dei libri per magari gestire al meglio l'organizzazione del vostro fascicolo annuale quindi qui ci mettete sostanzialmente l'etichetta che volete con un colore che volete e un titolo che volete penso di aver detto tutto ha in alto il manuale utente che vi consiglio perché è molto molto dettagliato proprio sull'utilizzo di tutte le funzionalità del portale allora vedo diverse domande allora il titolare di una delega operativa quindi firma quindi firma ad esempio un verbale di assemblea invece del presidente segretario oppure occorre anche prima degli stessi allora abbiamo detto che la delega operativa serve proprio in quei casi di persone che non devono operare che non operano nel nostro portale nel portale libri digitali ed è il caso appunto della firma del verbale del presidente o del segretario che comunque devono essere riconosciuti come soggetti quindi io il presidente e il segretario li dovrò inserire come soggetti firmatari all'interno quindi con delega firmatario all'interno del portale spero di aver risposto alla domanda se legale rappresentante ha solo lo speed e non la cns come fa a firmare il contratto e quindi obbligatorio avere anche la cns allora sì diciamo che è necessaria una firma digitale necessaria una firma digitale al contratto le condizioni di utilizzo la cns no la cns è il certificato di autenticazione all'interno del dispositivo rilasciato dalla camera di commercio non c'è solo la cns ma anche la firma digitale che consente invece di firmare è obbligatoria la sottoscrizione digitale non autografa delle condizioni contrattuali quindi sì il legale rappresentante titolare di impresa dovrà essere munito di firma digitale ok ok allora io avrei terminato magari non so se la camera di commercio voleva aggiungere qualche altra informazione che magari mi sono persa durante la trattazione no Sara direi che la la tua relazione è stata veramente complessa e da tutti chiarissima e completa da tutti i punti di vista io concluderei nel senso che abbiamo siamo rimasti assolutamente nei tempi spiegando secondo me tutto ciò che era importante e utile nei prossimi giorni se tu mi confermi che le slide sono a disposizione assolutamente sì le invieremo le invieremo ai partecipanti le invieremo dalla casella del nostro punto imprese digitale che è pid chiocciolapr.comcom.it e a questa stessa casella se qualcuno ha degli interrogativi delle curiosità che non ha avuto modo di approfondire oggi potrà anche rivolgere le proprie domande noi naturalmente ne inoltreremo infocamere per cercare appunto di dare una risposta a tutti gli ulteriori quesiti metteremo anche online nel nostro canale youtube la registrazione di questo webinar perché appunto ci sembra utile condividerla col maggior numero possibile di persone e di imprese per cui ecco questo è quanto adesso non so se ci sono altre domande Sara ma credo credo di no se magari riusciamo a cogliere qualche qualche coda allora ce n'era una proprio presentata all'inizio del ma è molto molto particolare l'avevamo vista diciamo che allora qua la mia collega del punto imprese digitale mi dice che una domanda simile era arrivata durante diciamo nei giorni scorsi mentre stavo promuovendo il webinar e noi c'eravamo abbiamo chiesto alla nostra referente infocamera Carla Carloni insomma mi sembra di ricordare che la risposta fosse negativa se la domanda è inerente la digitalizzazione la conservazione delle fatture elettroniche per così dire in modo semplificato non è questo lo strumento utile a tal fine ecco era questa stata la risposta diciamo che abbiamo quindi poter dire di no no questo è un strumento che ha una finalità specifica detto questo ti ringrazio molto Sara e ti saluto così come ringrazio e saluto tutti i partecipanti alla prossima ringrazio voi ringrazio voi e grazie a tutti per la partecipazione grazie ciao a presto arrivederci arrivederci